Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi parliamo di ambiente innevato e del modo migliore per affrontarlo. Ammettiamolo, la neve mette allegria. Sarà perché ci ricorda i giorni di scuola chiusa, per la canzongina di Pollon... Sembra il palco, ma non è essere a darti l'allegria! O per i pupazzi di neve della nostra infanzia, ma comunque quel manto soffice e candido ci attira come le zanzare con la luce. Ed è qui che entriamo in gioco noi, io e lo staff di Campobase che mi sopporta e mi supporta in questi video divulgativi, per fare in modo che voi andiate verso la neve nel migliore dei modi. Sembra il videopromo di un pusher questo, ve lo dico. In ambiente innevato si possono fare tante cose, scisce, alpinismo, trekking, ciaspole... Ma anche se la vostra idea è semplicemente quella di fare aperitivo al rifugio e farvi una passeggiata, sappiate che per stare con i piedi nella neve un minimo di abbigliamento e di attrezzature dovete averla. La neve è bella quanto pericolosa, un po' come tutte le cose belle, ma per farvi capire vi faccio un esempio banalissimo. Se camminassimo con i piedi immersi nella neve fresca, con delle normali scarpe da tennis, andremo incontro prima al congelamento delle dita dei piedi e poi del piede stesso. Ovviamente questo non avviene in pochi minuti, ma vi assicuro che il processo sarebbe molto più rapido di quello che possiamo immaginare. Considerate che congelamenti di terzo e di quarto grado comportano una compromissione totale dei tessuti e costringono all'amputazione. Se non vi ho terrorizzati abbastanza, sappiate che il freddo e qualsiasi altra intemperia comporti una dispersione del nostro calore corporeo, come ad esempio può essere il vento, possono portarci al punto in cui il nostro corpo non riesce più a produrre calore abbastanza velocemente da mantenere la nostra temperatura corporea ed entreremmo nello stato di ipotermia. E se la nostra temperatura scende sotto i 24 gradi, siamo fritti. Lo so, starete pensando, madomma io mi volevo solo fare una passeggiata e giocare a palle di neve, ma non sarà un po' troppo. Ovviamente vi ho esposto gli scenari peggiori, ma proprio per fare in modo che voi possiate essere coscienti e valutare la situazione prima di imbarcarvi in situazioni che possono diventare pericolose. Per evitare congelamento e ipotermia sono due le cose che dovete fare. Rimanere caldi e rimanere asciutti. Sul perché rimanere caldi non devo aggiungere nulla. Mentre sul perché rimanere asciutti vi racconto una breve storia. Mentre percorrevo il GR20 in Corsica, due ragazzi di 25 anni hanno deciso di partire per la tappa successiva alla mia nonostante fosse previsto maltempo, forte vento e pioggia. Uno dei due non aveva con sé l'equipaggiamento impermeabile e antipioggia. Purtroppo quel ragazzo non è mai sceso da quella montagna ed eravamo a fine settembre e in assenza di neve. Perché lui è andato in ipotermia e l'altro ragazzo no? L'acqua ha una conducibilità termica 24 volte maggiore rispetto all'aria. Quindi la pioggia fredda che ha inzuppato i vestiti del ragazzo ha comportato una dispersione enorme di calore corporeo che sommata al forte vento ha provocato lo stato di ipotermia. Questo è il motivo per cui dovete rimanere asciutti. E quando parlo di rimanere asciutti non parlo solo delle intemperie ma anche del vostro sudore. Eh ma se sto sciando e arrampicando come faccio a non sudare? Se siete impegnati in attività dinamiche dovrete indossare solo strati molto traspiranti e leggeri. Poi una volta che avrete finito l'attività dinamica dovrete ricoprirvi. Ovviamente è impossibile non sudare ma quello che possiamo fare è aumentare il più possibile la possibilità di traspirazione e quindi di evitare che il nostro sudore vada ad inzuppare i tessuti che abbiamo a contatto con la nostra pelle soprattutto. Va bene ora basta con gli spiegoni andiamo alla pratica quindi che cosa ci dobbiamo mettere addosso. Partiamo dalla base dai fondamentali. Me li chiedete sempre quindi vi farò degli esempi pratici di articoli. Poi c'ho anche un negozio a disposizione approfittiamone no? Ragazzi i nostri sono consigli eh poi acquistate quello che volete, quello che preferite però almeno avete degli articoli di riferimento da prendere da esempio. Inizierei subito con le scarpe. Ovviamente dobbiamo tenere al caldo i nostri piedini e per farlo vi do due possibilità. La prima è per attività statiche cioè se dobbiamo stare sulla neve anche a berci una birra a fare l'aperitivo. Una bella Polar Rush o Rush Polar di scarpa. È uno scarpone con tenuta termica, comodo, pure carine. Mi hanno domandato un tipo 56 di numero. Guardate quanto è grossa sta scarpa. Cos'è? La Rush di Pippo Baudo questa? Vi do un'alternativa per attività un po' più dinamiche. È la Trango TRK Leather di La Sportiva. È una scarpa un po' più tecnica e un po' più fredda della precedente. Ma se dobbiamo fare attività dinamiche questa scarpa può essere la scarpa che fa il caso nostro. La potete utilizzare anche in stagione intermedia ad alta quota quindi è un po' più versatile. Una volta decisa la scarpa ovviamente bisognerà abbinargli un calzino. Il problema dei calzini invernali è che a volte sono molto spessi e si mangiano un numero della scarpa. Quindi spesso si comprano le scarpe abbinate ai calzini. Ma io comunque proponiamo un'alternativa. I Freeride di Ortovox che è un calzino invernale ma non troppo spesso. Quindi non vi andrà a mangiare troppo spazio all'interno della scarpa. E adesso passiamo al reparto che sottovalutano tutti. L'intimo termico ragazzi. Quello è la prima cosa per evitare di diventare delle spugnette intrise di sudore. Ho detto la prima non l'unica cosa. Quindi quello è il primo strato. Poi ce ne serviranno altri. A seconda dei gusti vi propongo la linea Thermovent di Ortovox in lana merino. Sono delle magliette molto calde e confortevoli. Abbiamo già parlato delle vantaggi e svantaggi della lana merino. Oppure la linea Active Extreme di Kraft. Ovviamente ci sono sia la maglia che il pantalone. Non abbiamo finito con le estremità. Dobbiamo proteggere le nostre belle manine. Anche qui vi do due possibilità. Uno per attività statiche che è il Glissade o Glissad, non ho mai capito, di Black Diamond. Oppure più adatto alle attività dinamiche, quindi un po' meno imbottito, abbiamo il G-Pure di Camp. Abbiamo ancora un'estremità da proteggere ed è la nostra bella capoccia. Vi propongo per attività statiche un Beanie Rock'n'Bool. Questo è anche il mio cappello personale, proprio mi piace ragazzi, proprio bello. Caldo, proprio caldo. Mentre se dovete muovervi, dovete sudare, dovete fare attività dinamiche. Una bella cuffietta di montura molto più leggera e traspirante. Dimenticavo un'altra parte molto delicata da proteggere. Dobbiamo proteggere i nostri occhi. Tenete presente che la neve riesce a riflettere fino all'80% dei raggi UV, quindi non fate gli splendidi. Proteggetevi dal riverbero della neve con un bel paio di occhiali da sole. Bene, la base ce l'abbiamo, ma siamo praticamente in calzamaglia, quindi se non vogliamo rubare i ricchi per dare ai poveri... Fermatevi amico, siete appena entrato nel territorio di Robin Hood e dei suoi allegri compagni. Ci toccherà indossare qualcos'altro. E qui parte un'altra grande distinzione perché dovete chiedervi che cosa state andando a fare sulla neve. State andando a stare fermi con un panino in mano con la porchetta a guardare i vostri amici che fanno cose? O sarete voi quelli che fanno cose mentre vengono guardati dagli amici con il panino con la porchetta? Sono domande importanti. Quindi per fotografi di montagna, birdwatcher, insomma gente che deve stare ferma in un punto servirà un tipo di abbigliamento. Per invece gente che deve fare sci alpinismo, arrampicata, ciaspolate, servirà un altro tipo di abbigliamento. Le attività statiche ci danno la possibilità di accorpare alcuni strati. Mentre se dobbiamo affrontare attività dinamiche è fondamentale avere la possibilità di riuscire a regolare il nostro abbigliamento. Cioè se dobbiamo scoprirci un po' di più, coprirci un po' di più. Quindi avere gli strati divisi ci aiuta tanto. Un bel pantalone che è uscito proprio quest'anno è il Discovery Pants di montura. Ha cuciture termosaldate, è impermeabile, c'è anche la lamina all'interno. Non è un pantalone imbottito, quindi non ha una capacità di termica incredibile, però devo dire è assolutamente versatile. Con una bella calzamaglia sotto, con questo andate tranquilli. E adesso è arrivato il momento di metterci un pile addosso, quindi inizierai prima con quello più caldo. Questo è un Nordic Fleece di montura. Ragazzi, a parte che è bellissimo perché ti senti tipo un Muppets quando ti metti i pelosi. Però sono caldi, sono confortevoli, questo ovviamente è adatto ad attività un po' più statiche. È proprio caldo, raga. Sempre caldo ma un po' più traspirante del precedente, il Nordic Fleece di montura. Abbiamo una tecnologia Power Stretch, adatta più ad attività dinamiche. E passiamo allo strato imbottito. Va indossato solitamente sopra il pile e nei momenti di riposo, cioè se state facendo un'attività molto dinamica, è inutile che vi mettete addosso il piumino, suderete e basta. Questo qui in particolare è un Highlander Jacket di Marmoth. Madonna che colori allegri che mi state dando oggi, è proprio belli. Siamo nero su nero oggi, pronti anche per l'urban o per fare le rapine, se siete voi. E lo strato finale rimane sempre il nostro bel guscio che ci protegge dalle intemperie. Questo non è un super guscio da 600 euro, però devo dire fa il suo. È il Fitzroy di Millet con tecnologia Dry Age. Ovviamente una volta definito l'abbigliamento, dovrete prendere e portare con voi ciò che vi serve per l'attività che volete fare. Che siano le ciaspole, che sia una piccozza, che siano degli sci, insomma quello dovreste saperlo, no? Attenzione anche all'orientamento, portate con voi un buon GPS. Se non avete un rilevatore GPS dedicato va bene anche il vostro telefono, ma scaricate le mappe offline, tracciate il percorso, seguite una traccia. Mi raccomando, in inverno e con la neve è molto più semplice perdere l'orientamento. Cioè, a volte i segnalini non si vedono in estate, ma figuriamoci con la neve, cioè, pensateci un attimo. Consigliamo anche di portare con voi una buona torcia, un thermos con una bevanda calda, cerotti riscaldanti termo pad. Questi, devo dire la verità, non li conoscevo neanche io, sono dei cerotti che si possono mettere sui piedi, sulle mani, sul corpo, ci sono varie tipologie e vi assicuro che possono fare la differenza in momenti critici di freddo. Ad esempio ho scoperto che li usano molto gli stuntman o gli attori, quando devono girare magari all'esterno, devono stare fermi per tante ore, questi qua li salvano la vita. E poi un consiglio, portatevi un cambio asciutto nello zaino che ritorna sempre utile. Ci sarebbe da affrontare anche il capitolo sicurezza sulla neve, ma questo è un argomentone anche abbastanza articolato. Le nostre raccomandazioni sono quelle di controllare ovviamente il meteo prima di muoversi, controllare il bollettino valanghe, portare nel vostro zaino un piccolo kit di primo soccorso, è assolutamente obbligatorio per chi va fuori pista, kit arva, pala e sonda. Se vi piacerebbe che affrontassimo l'argomento sicurezza sulla neve, scrivetelo qui sotto nei commenti e ci adopereremo per farvi felici, quanto vi vogliamo bene. Bene, è ora che siete ben vestiti e ben attrezzati, non farete la figura di Totò e Peppino. Vi aspettiamo da campo base, venite a trovarci e poi dritti verso i pupazzi di neve. Ciao! Grazie!